A sorpresa le Nazioni Unite hanno adottato una risoluzione proposta dalla Turchia in cui si impegnano a promuovere la strategia rifiuti zero nel mondo. Intanto lo scandalo del Qatar Gates si allarga e inizia a lambire anche un'altra istituzione europea, ovvero la Commissione, mentre il Qatar dal canto suo minaccia di chiudere i rubinetti del gas. Parliamo anche della parabola discendente della giovane democrazia tunisina che forse segna anche la conclusione del sogno iniziato con la primavera araba e degli studenti russi ucraini da poco arrivati alla rondine cittadella della pace. Io sono Andrea degli Innocenti, oggi è il 21 dicembre 2022 e questo è il nome di assegno, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Sigla! Mercoledì scorso è successa una cosa veramente strana e interessante, uno di quei segnali che arrivano un po' senza preavviso, o perlomeno senza preavviso per me, perché in realtà dei preavvisi c'erano stati, e prima di quando te lo saresti aspettato. Peraltro notizia passata completamente in sordina. Di cosa sto parlando? Vabbè, lo avete già capito probabilmente dal titolo del video e dal sommario, dal rassunto iniziale. Comunque fatto sta che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato all'unanimità una risoluzione sull'iniziativa Rifiuti Zero, presentata dalla Turchia, e esatto, avete capito bene, Rifiuti Zero, Zero Waste. La storica risoluzione è stata presentata mercoledì scorso, insieme ad altri 105 paesi, dalla Turchia insieme a 105 paesi, ma la Turchia era una sorta di capofila, e a quanto pare è stata fortemente voluta da Emin Erdogan, che è la consorte di Recep Tayyip Erdogan, il presidente della Turchia, che già nel 2017 aveva lanciato una serie di iniziative Zero Waste. In cosa consiste questa risoluzione? Innanzitutto viene istituita il 30 marzo una giornata internazionale dei rifiuti zero, inoltre si prevede che il capo delle Nazioni Unite istituisca un comitato consultivo triennale composto da persone selezionate in base alle loro conoscenze, esperienze e competenze per promuovere iniziative locali e nazionali a rifiuti zero, e si raccomanda anche di continuare la discussione sulle iniziative rifiuti zero, incoraggiando gli Stati membri, le organizzazioni facenti parte delle Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali e regionali ad attuare iniziative a rifiuti zero a tutti i livelli. La risoluzione chiede anche al capo dell'ONU di includere nel programma per l'ambiente delle Nazioni Unite una sezione dedicata all'iniziativa rifiuti zero che comprenda le attività e le esperienze di queste iniziative. Infine, ultima cosa, la risoluzione invita le Nazioni Unite a convocare sul tema una riunione di alto livello di un giorno a New York nel 2023 durante la 77esima sessione dell'Assemblea Generale, perché appunto si ritiene che la strategia rifiuti zero sia fondamentale anche nella lotta e il contrasto al cambiamento climatico. Tutte queste informazioni ve le do, sono tratte da un articolo di TRT World, ma insomma ci sono un po' di articoli in lingua inglese sul tema, nessuno in italiano, perlomeno non ne ho trovati, la notizia come vi dicevo è passata molto in sordina, come commentare? Non me lo aspettavo e ne sono stato felicemente sorpreso, fra l'altro la notizia me l'ha girata Manuela Leone, ieri sera la nostra espertissima di rifiuti, conduttrice su Italia che cambia del podcast rifiuti rivoluzione in corso, nonché referente siciliana di Zero Waste Italy, che era altrettanto confusa e felice o non lo so, sarà che è siciliana quindi ogni sua emozione deve essere riscritta da una canzone di Carmen Consoli, ma mi sembra che questa locuzione descriva abbastanza bene lo stato d'animo con cui mi ha condiviso questa notizia. Ora lo so che potreste pensare, vabbè, ora non è che se c'è una giornata mondiale dei rifiuti zero cambia qualcosa e in parte potrei anche essere d'accordo, ma il punto qui non è tanto pratico che in quella giornata faremo delle cose per cui abbatteremo il livello dei rifiuti, ma culturale, di densità culturale attorno a un concetto come rifiuti zero, cioè il tema dei rifiuti è uno di quei concetti su cui l'immaginario gioca un ruolo davvero fondamentale. Ancora oggi nella testa delle persone quando parliamo di rifiuti e di strategie per appunto gestire i rifiuti c'è solo la raccolta differenziata come non plus ultra dell'ecologia, come se solo attraverso la differenziata che va bene per carità però si potesse raggiungere una soluzione complessiva al problema dei rifiuti, mentre iniziare a inserire un concetto come questo, rifiuti zero, che automaticamente porta l'idea di ridurre fino ad azzerare la produzione di rifiuti, ecco è qualcosa di veramente rivoluzionario, è un meme potentissimo e in questo credo anche che introdurre una giornata mondiale, fare iniziative di questo tipo abbia un forte valore e il fatto stesso che questa risoluzione sia passata, non lo so, è un fatto quasi stupefacente dal mio punto di vista. Ci sono due novità abbastanza importanti sullo scandalo Qatargate di cui credo sia utile parlare, prima però vi faccio un riassuntino in due parole del caso, nel caso in cui non sappiate di cosa si tratti, anche se mi sembra difficile ormai giunti a questo punto, ma comunque in due parole il Qatargate è il nome con cui i giornali sostanzialmente chiamano il tentativo riuscito di corruzione da parte del Qatar, ma anche del Marocco, nei confronti di alcune figure importanti delle istituzioni europee, del Parlamento in particolare, ma non solo come vedremo fra poco, per avere in cambio dei favori politici in caso di discussioni e votazioni che riguardassero quei due paesi, soprattutto con riferimento al tema dei diritti. Altro aspetto centrale in questo scandalo è il ruolo italiano e in particolare quello di Antonio Panzeri, ex europarlamentare del PD, che sembra essere stato il fulcro di questa rete di corruzione con la sua ONG Fight Impunity, che ormai sembrerebbe essere poco più di una sorta di scatola vuota creata senza altri fini se non quello di prendere mazzette. Ok, questa è un po' la vicenda detta in breve, il contesto in cui poi si sono inserite queste due novità, queste due aspetti che mi interessa commentare con voi. La prima è che, come accennavo, lo scandalo sembra non essere più circoscrivibile al solo Europarlamento, ma inizia a lambire anche la Commissione Europea. Scrive Angela Mauro sull'Huffington Post, l'ombra del Qatargate si allunga sulla Commissione Europea da quello che trapela l'inchiesta giudiziaria sulle presunte mazzette del Qatar e dal Marocco per influenzare le scelte dell'Unione Europea, resta confinata al Parlamento Europeo, ma emergono diversi aspetti che riguardano invece Palazzo Berlaymont e che non sono del tutto chiari. Palazzo Berlaymont, per chi non lo sapesse, cioè tanti immagino, è la sede della Commissione Europea. Secondo le rivelazioni della stampa confermate a Bruxelles, l'ex commissario europeo sull'immigrazione, il greco Dimitris Avramopoulos, ha percepito un compenso di 60.000 euro per la sua attività di componente del board di Fight Impunity, l'ONG fondata da Antonio Panzeri, ex eurodeputato arrestato il 9 dicembre scorso. In pratica Avramopoulos dice che avrebbe, anzi avrebbe, ha ricevuto 60.000 euro, che non sono pochi, per prendere parte al board di questa ONG, che appunto, come vi dicevo, in realtà non faceva veramente attività benefiche, ma era un po' una scatola vuota, e questa cosa ha un po' compromesso la sua posizione. Avramopoulos dice che la sua partecipazione all'ONG si limitava ad alcune consulenze e articoli e che era stata approvata da Ursula von der Leyen, la Presidente della Commissione, in persona. Come scrive il Fatto Quotidiano, l'ex commissario ha ricevuto, su approvazione della Commissione Europea, uno stipendio da 60.000 euro dalla ONG Fight Impunity, coinvolta nello scandalo sulle mazzette in Unione Europea, il lavoro svolto, due conferenze, di cui una online e un articolo, il tutto fatto nell'arco di circa un anno. Lo scrive la stampa, mentre cresce l'attenzione sul ruolo svolto dal politico greco, che, va precisato, non risulta indagato e ha ricevuto legittimamente il proprio compenso. Ora, è possibile anche che le cose stiano esattamente come appaiono e che Panzeri abbia pagato lautamente Avramopoulos non per fare cose losche connesse al Qatargate, ma semplicemente per coinvolgerlo nella sua organizzazione e, in questo modo, dare maggiore credibilità alla stessa. La Commissione, però, sarebbe accusata di non aver verificato, prima di dare il via libera all'ex commissario, se appunto la ONG Fighting Unity fosse iscritta o meno a registro sulla trasparenza e no, non lo era, comprensibilmente. Aggiungo anche che, insomma, una ONG che ti offre 60.000 euro per due conferenze, di cui una online e un articolo, nel corso di due anni, invece di investire quei soldi nei suoi obiettivi statutari, ecco, forse qualche sospetto poteva farlo venire. L'altra novità, invece, è che il Qatar sta facendo una certa pressione sulle istituzioni europee per, non dico insabbiare tutta quella questione, tutto lo scandalo, ma ecco, perlomeno smettere di scavare. E, dalla sua, ha una potente arma di ricatto. Indovinate un po', il gas. Leggo su quale energia. La risposta di Doha non si è fatta attendere. Fonti diplomatiche di Qatariote, citate dalle agenzie di stampa internazionali, hanno sostenuto che le indagini UE sul Qatar Gate si baserebbero su informazioni inaccurate e che potrebbero avere delle ripercussioni negative anche in campo energetico. La decisione di imporre una restrizione così discriminatoria che limita il dialogo e la cooperazione con il Qatar, prima che il procedimento legale sia concluso, influenzerà negativamente la cooperazione in materia di sicurezza regionale globale, nonché le discussioni in corso sulla povertà energetica globale e sulla sicurezza. Questo è quanto si legge in una nota, appunto, di alcuni funzionari del Qatar. In altre parole, vi togliamo il gas, detta proprio papale papale. Il punto è che il Qatar, il problema è che il Qatar sta diventando, anno dopo anno, anzi, mese dopo mese, sempre più strategico nella nuova geopolitica europea degli approvvigionamenti di gas. Infatti, dovendo rinunciare a tutto quasi il gas russo, l'Europa ha cercato nuove rotte commerciali per soddisfare la sua domanda energetica, guardando soprattutto, ve ne ricorderete, al gas naturale liquefatto, il famoso GNL, quello che viene pompato dentro a queste enormi navi cisterna sotto forma liquefatta, appunto, di gas liquido. Dopodiché deve essere rigassificato attraverso i famosi rigassificatori, altra roba che ha suscitato un certo scandalo in Italia per la costruzione potenziale a piombino di un regassificatore. Ne avrete sicuramente sentito parlare. Ne abbiamo parlato anche in maniera un po' tangenziale qui sui numeri assegno. Comunque, il Qatar sta pianificando una maxi espansione della sua capacità produttiva di GNL tramite i progetti Northfield Est e Nordfield South, che dovrebbero incrementare la produzione complessiva nazionale da 77 a 110 milioni di tonnellate all'anno dal 2025 e poi da 110 a 126 entro il 2027. La Germania ha già seglato un contratto a lungo termine con Qatar Energy e Conoco Philips per avere 2 milioni di tonnellate all'anno GNL per 15 anni dai nuovi giacimenti. Anche alcuni colossi energetici europei, come Total Energies e anche l'italianissima ENI, hanno delle quote nei progetti di espansione di GNL in Qatar. In sostanza, i legami fra Europa e Qatar sul versante energetico si stanno molto rafforzando e il futuro gas proveniente dal Golfo Persico potrebbe essere molto ambito dai paesi europei, in particolare la Germania ma anche l'Italia, per avere appunto maggiore sicurezza energetica. E ecco, questa è un po' la situazione. Che dire, idea sicuramente brillante quella di sostituire il gas russo con il gas Katariota e in generale di sostituire il gas con altro gas, come abbiamo detto più volte. Fra l'altro qui non stiamo parlando di emergenza, qui stiamo parlando di un progetto di espansione e di contratti a lungo termine. Cioè la parola gas e la parola a lungo termine non vanno molto d'accordo perché non c'è nessun progetto a lungo termine che possa contemplare il fatto che continuiamo a bruciare gas e a metterci due in atmosfera perché siamo nel bel mezzo di una tremenda crisi climatica. Questa cosa dovremmo forse mettercela in testa e iniziare a progettare con questo elemento ben in mente perché sennò rischiamo di fare più danni che altro. E fra l'altro poi ci continuiamo a legare con paesi non esattamente democratici che appunto possono usare l'arma del gas come ricatto anche politico. Torniamo a parlare di politica internazionale. Il 17 dicembre ci sono state le elezioni in Tunisia e sono state probabilmente fra le meno partecipate della storia non solo e non tanto della giovane democrazia tunisina, il che è scontato, ma proprio di qualsiasi democrazia in generale. Non ho i dati alla mano, non li so, ma ecco a occhio non so quante altre elezioni sono state meno partecipate di questo. Si è recato alle urne l'8,8% degli aventi diritto, meno di un elettore su 10 per un totale di poco più di 800.000 persone che hanno espresso la loro preferenza. Nel 2019 fu il 40% la affluenza. Un articolo molto approfondito e ben fatto di Marco Garavoglia su Valigia Blu spiega le cause di questa disfatta democratica che forse sancisce anche la fine di questa democrazia e determina il definitivo fallimento della primavera araba. Vi leggo alcuni estratti. Esistono ragioni precise che possono spiegare il voto che ha posto fine al processo di transizione democratica che stava interessando il piccolo stato nordafricano dal 2011, anno della rivoluzione della dignità e della libertà, che ha portato alla cacciata del despota autoritario Zine Alabdine Ben Ali. Le motivazioni sono varie ma una delle principali, continua il giornalista, è la crisi economica e sociale. Da mesi nel paese si fa fatica a trovare bene di prima necessità come farina, zucchero, latte e burro, generi lamentari essenziali per la dieta dei tunisini chiamati a compiere sacrifici su base quotidiana. La spiegazione a questa penuria, a cui si è aggiunta quella della benzina, è semplice. La Tunisia non riesce più a importare questi beni per una mancanza di liquidità. Gli stati e le compagnie internazionali esportatori hanno cominciato a non fare più credito esponendo di fatto il paese a tutte le sue debolezze interne, in primis un complicato sistema di sovvenzioni statali per mantenere bassi i prezzi che però oggi non sembra più funzionare. L'ultimo caso in ordine di tempo è il malcontento dei panettieri, i quali nell'attesa di ricevere le compensazioni di stato per mantenere calmierati i prezzi del pane si sono detti pronti a sospendere la produzione nel caso non fosse stata fornita loro farina gratis. Un altro elemento di stabilità è invece il crollo del potere di acquisto. Considerate che l'aumento dell'inflazione dopo l'invasione russa in Ucraina ha colpito la Tunisia forse più duramente di qualsiasi altro paese. A novembre l'inflazione è arrivata a circa il 10% ma è stata altissima su alcuni beni alimentari tipo le uova 43% in più, carne più 24%, verdure più 32%, olio più 20% e derivati del latte più 16%. Capite che parliamo di prodotti appunto di consumo fondamentali non commodities come si vuol dire. Garavoglia passa poi a analizzare i motivi più strutturali che hanno minato la fiducia dei tunisini nei confronti di una classe politica. Nel 2011 milioni di persone hanno chiesto a gran voce libertà e dignità due parole che sono state concretizzate in parte e che hanno lasciato la porta aperta al presidente della Repubblica Kais Sayed. Poi il 25 luglio 2021 nel giorno della festa della Repubblica Sayed con un colpo di forza ha di fatto azzerato le istituzioni tunisine congelando il Parlamento e sciogliendo il governo. La motivazione? La Tunisia stava vivendo una situazione di pericolo imminente rappresentata da una crisi sanitaria da Covid-19 che stava minando il paese e una crisi economica che il governo non era riuscito a contrastare. Sayed ha quindi fatto leva su una situazione di forte instabilità per proporre la sua agenda politica, ha cominciato a governare praticamente con pieni poteri attraverso decreti presidenziali, ha azzerato il potere giudiziario con le dimissioni del Consiglio Superiore della Magistratura, ha promosso un nuovo testo costituzionale il 25 luglio scorso e ha imposto nuove elezioni lo scorso weekend per il rinnovo di un Parlamento che però è completamente depotenziato. La nuova assemblea dei rappresentanti del popolo sarà composta infatti da candidati che non hanno potuto rappresentare i partiti politici e che dovranno vagliare le riforme volute dal Presidente della Repubblica con assoluta priorità perché c'è scritto nel nuovo testo costituzionale. Quindi ecco, la popolazione di fatto era chiamata a eleggere un Parlamento fantoccio, cosa che spiega almeno in parte la quasi totale astensione e come ha affermato il politologo Hamza Mebbeb, questo voto è stata una formalità per archiviare il sistema imposto da Qai Sayed e concentrare il potere tra le sue mani. Il Parlamento non ha più alcun tipo di potere. Insomma, il potere si sta nuovamente concentrando in poche mani, due per l'esattezza, in Tunisia e il rischio di una deriva completamente autoritaria sembra davvero alle porte. Di fronte a ciò, leggo ancora nell'articolo, il sentimento generale è di disaffezione, disillusione e apatia nei confronti di tutto quello che si può definire stato. Sono forse questi tre aggettivi che possono spiegare quale sia la sensazione a livello generale nel paese. La prima democrazia del mondo arabo sembra sul punto di abdicare, sancendo forse il fallimento di quel movimento pieno di gioia e speranza che è stata la primavera araba. Ovviamente è una situazione in divenire che noi continueremo a seguire per tenerci aggiornati, perché sono paesi di cui parliamo e sentiamo parlare troppo poco sui giornali e sui telegiornali, mentre è interessante e importante seguire cosa avviene appunto anche in questi paesi. Sia per una questione così di etica, anche professionale, giornalistica, che per una questione di avere una visione più grande di quello che sta succedendo nel mondo, perché come sappiamo tutte le cose sono connesse, tutte le crisi sono connesse e quello che succede dall'altra parte del mondo in realtà ci riguarda molto più da vicino di quanto siamo abituati a pensare. Va bene, torniamo a parlare velocemente della guerra in Ucraina, guerra che è un po' sparita dai giornali o perlomeno vi compare molto meno, non perché sia finita o rallentata, ma perché come spesso accade i media l'hanno in qualche misura normalizzata. Oggi però ne parliamo in maniera molto diversa dal solito, molto tangenziale, raccontando una storia di cui ci parla Sara De Carli su Vita e che riguarda l'associazione La Rondine, cittadella della pace, di cui abbiamo parlato anche su tale che cambia con una video storia dedicata, se l'avete persa e la volete recuperare la trovate sotto fonti e articoli, che detta in due parole è una onlus che lavora nella promozione della cultura del dialogo e della pace tramite l'esperienza concreta dello studentato internazionale. Vi leggo un pezzetto dell'articolo su Vita. Alla World House di Rondine quest'anno ci sono anche tre coppie di nemici dal fronte Russia-Ucraina. Cinque ragazze e un ragazzo che con coraggio hanno accettato la sfida di entrare in un percorso di confronto con l'altra parte in un momento così doloroso, con il conflitto che ha ancora un'intensità molto alta e un orizzonte di grande complessità e incertezza. Dalla Russia arrivano Sabina, Alexandra e Ilia, dall'Ucraina Olekandra, Valeria e Caterina. Sono dodici giovani che in questi giorni sono ufficialmente entrati alla World House di Rondine, in realtà quindi sono il doppio, ce ne sono altri sei, per partecipare al programma biennale della Cittadella della Pace di Arezzo che promuove un percorso di formazione e convivenza per giovani nemici provenienti da luoghi di guerra o in cui gli echi del conflitto bellico sono ancora forti. Dopo i primi tre mesi di osservazione e valutazione oggi iniziano, oggi sarebbe ieri in realtà, il loro percorso per formarsi come ambasciatori, e futuri leader di pace, così da tornare nei propri paesi e contribuire alla risoluzione dei conflitti nella loro terra. Insieme alle tre coppie provenienti dalla Russia e dall'Ucraina ci sono Solomon e Jain del Mali, Malak e Aula studentesse palestinesi e Heili e Shira studentesse israeliane. L'articolo poi racconta le storie dei nuovi arrivati da Russia e Ucraina e si conclude con le parole del ragazzo russo Ilia, 25 anni. Vi leggo l'ultimo pezzetto perché è abbastanza intenso. Ilia vuole guardare oltre la guerra al futuro. Tutti i conflitti e le guerre sono unici ma hanno tutti qualcosa in comune. Questa è una citazione del ragazzo. Finiscono. Non importa quanto dure e violente siano state, alla fine finiscono tutte. Molte guerre finiscono per volontà delle persone e per la loro stanchezza del conflitto. Ecco perché è importante pensare a cosa accadrà dopo e come potremo vivere tutti insieme. Ecco mi sembra questa esperienza della rondine un modo molto intelligente e concreto di praticare la pace più che di parlarne che va oltre la retorica, mette i piedi nel conflitto, non lo evita, lo affronta ma appunto con spirito non violento e pacifista e fa qualcosa di pratico, di molto pratico, apparentemente molto piccolo ma chissà in realtà magari in futuro determinante per creare la pace. Va bene, detto ciò io direi che noi ci possiamo salutare qua. Io vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di un rassegno sempre a partire dalle odds, canali youtube, speaker e spotify nonché sulla pagina rassegna stampa di www.cambia.org State bene, fate i bravi e ricordatevi che chi si rassegna è perduto. Grazie. Grazie.